Questi sono Antonio e Tommy Hanno ideato il Cella Mare Music Festival Originariamente ispirato ad uno dei festival musicali più importanti al mondo La locandina del Cella Mare è diventata un piccolo successo di rare Tommy e Antonio l'hanno messa a punto per gioco Immaginando un enorme festival pugliese Che mettesse insieme le migliori band indipendenti del territorio Una risposta quasi immediata L'evento è stato supportato da ben 13.000 persone In poche ore sono diventati virali fotomontaggi, video, selfie, remix Prima le band in line up hanno espresso il loro appoggio E dopo la stampa Sono comparsi articoli e interviste sul Fatto Quotidiano La Repubblica, Vanity Fair, GQ, Rocket, Medium, Radio DJ e altre migliaia di blog e siti web L'ultima notizia è che il festival non è più una parodia E verrà organizzato sul serio Spontaneamente operatori del comparto musicale pugliese Art director, videomaker, uffici stampa, band, istituzioni e sponsor Stanno già mettendo a disposizione tempo ed esperienza Per un progetto di cui sono entusiasti quanto gli attivissimi sostenitori sui social Perfino il comune di Cella Mare, il più piccolo comune della provincia di Bari Ha dato il suo benestare riuscendo ad offrire spazi ideali per un evento del genere Si deve fare a Cella Mare Siamo risi conto che non è impossibile se lo facciamo tutti insieme E qui nasce la campagna di Crowdfound Per dare vita sul serio al Cella Mare Music Festival Serviranno risorse economiche necessarie ad un evento senza precedenti Abbiamo concordato delle ricompense con cui chiunque può preacquistare ingressi e gadget Per sostenere concretamente queste spese Ci sono varie soluzioni, alcune divertenti Che ci permetteranno ad esempio di affittare i palchi O di procurare la strumentazione alle innumerevoli band che si esibiranno Sarà grazie alla stessa partecipazione di tutti Che tutti potremo vivere questo evento Nato come uno scherzo, ma che non scherza di sicuro Chi premata le ricompense Chi appoggia il crowdfunding diffondendolo Chi semplicemente ci crede Farà parte di tutti quelli che hanno realizzato un festival super speciale Siamo certi che insieme porteremo in alto quest'idea Dipende da tutti noi Se come noi avete il pricio per la versione pugliese dei festival più divertenti al mondo Portiamola tutti insieme a farla diventare realtà Le nostre band preferite sono già cariche Lo avete chiesto a gran voce? E quindi ce l'ha ammesso di le fare E quindi questo è stato molto Hillel